Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Uno sguardo alle statali sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Batesse e Monterigioni. Ci troviamo tra i chilometri 6 e 4 e 9 e 1. Il provvedimento è in vigore fino al 20 luglio. Per il traffico ferroviario informiamo che le biglietterie di Montecatini Centro, Campiglia e Orbetello quest'oggi sono chiuse al pubblico. Prima di salutarci per il traffico urbano del capoluogo nell'ambito dei cantieri tramvia fino al 10 luglio, restringimenti di carreggiata per fasi per lavori all'illuminazione pubblica, tra l'altro in piazza Viese, piazza Leopoldo, viale Milton. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio! Buon viaggio!